La terra torna a tremare in campagna nella provincia di Avellino dove si è registrato uno sciame sismico in Alti Irpini. La scossa più potente è stata di magnitudo 2.3 ad avvenuta nell'area del cratere del sisma del 1980 nel territorio del comune di Teora. Secondo i dati degli NGV la scossa ha avuto una profondità di 11 km ed è stata avvertita alle ore 6.23. Altre scosse di magnitudo tra 1.2 e 1.6 con epicentro a conza della campagna sono state registrate nelle ore successive.